La politica se la prende con la stampa dimostra da un segnale di grandissima debolezza e io credo che in questa occasione è come se ci sia proprio il tentativo di spostare l'attenzione. Il Movimento 5 Stelle è una grande forza politica, ha preso un sacco di voti e oggi hanno la responsabilità di tramutare quei voti in capacità di sapere amministrare. Io non giudico la RAG o il Movimento 5 Stelle in base a quello che dicono, in base a quello che fanno. Anche la Lega è stata una grande forza politica di protesta che ha saputo tramutare quella protesta in proposta. Oggi secondo me il grave handicap del Movimento 5 Stelle è quello di non aver saputo creare una classe dirigente e la vicenda di Roma dimostra l'incapacità di creare una propria classe dirigente e poi la capacità di amministrare e di governare, di risolvere i problemi.